Al classico concertone del primo maggio che c'è stato ieri, vi ricordo a San Giovanni, meravigliosa zona di Roma, capitale d'Italia, c'era anche la brava e simpatica Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, che è stata letteralmente accolta da un pubblico che ha letteralmente gridato Stefano Stefano a gran voce. Insomma, la sorella di Ilaria avrebbe detto Stefano è morto tra gli ultimi degli ultimi. In buona sostanza, il fratello di Ilaria Cucchi, secondo la stessa Ilaria, sarebbe morto come ultimo, ripeto. Ovviamente questa, chiamiamola presenza di Ilaria Cucchi, non è passata inosservata, anche perché la bella, brava e simpatica Amber Angiovini ha stretto la mano, le mani, ha abbracciato Ilaria Cucchi. Ilaria si è sentita un pochino più tranquilla, ha ricordato, ripeto, l'amato fratello morto nel lontano 2009 e soprattutto ha fatto sapere insomma che di lui probabilmente non si sarebbe parlato, invece ancora oggi se ne parla e rimane ancora acceso il dibattito sulla sua triste morte. Vi ringrazio in primis per la visione di questo video, in secundis per l'ascolto, datemi la vostra opinione e mi raccomando ci tenga ad averla. Un cordiale salutone a voi e al prossimo video da Narratore Italiano di YouTube Italia. Grazie a tutti.